Conoscere lo sport per comprendere quanto sia importante per la salute e promuovere il territorio. Erano questi gli obiettivi principali della Notte Bianca dello sport che si è svolta a Piedimonte Vatese, nelle più importanti piazze della città. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Piedimonte Vatese in collaborazione con le associazioni sportive locali. Grazie a questo evento è stato possibile immergersi in oltre 30 discipline sportive diverse, coprendo così una vasta gamma di interessi e gusti. Dalle arti marziali agli sport elettronici, dal nuoto alla danza, dalla corsa al pugilato e alla ginnastica, dal basket alla pesca, dall'arrampicata alla palla a volo, dal tennis al calcio e alla mountain bike. Ogni persona ha trovato dunque un'attività per le proprie passioni e preferenze. L'evento era rivolto a tutte le fasce di età e ha offerto opportunità di divertimento e coinvolgimento per tutti, dai bambini agli adulti. Da Piedimonte Vatese è tutto.